Amici del canale, ben ritrovati! Avete presente la ricetta pavesino cocco e nutella? Bene, oggi vedremo quella e una nuova lezione. Pavesino sacca, una ricetta semplice e alla portata di tutti. Per i classici pavesini cocco e nutella prendiamo un pavesino, lo cospargiamo di nutella e chiudiamo con un altro pavesino. A questo punto lo immergiamo nel caffè, zuccherato, e passiamo sulla farina di cocco. Per i pavesini sacca iniziamo a preparare la ganascia al cioccolato tritando grossolanamente il cioccolato ponderante. In un pettolino portiamo la panna al limite del bollore, circa 85 gradi. Aggiungiamo un po' di panna al cioccolato tritato. Facciamo quest'operazione in tre riprese. Proseguiamo con un altro terzo. E infine l'ultimo. A questo punto prepariamo il pavesino sacca, prendendo un pavesino al cacao, distribuiamo la marmellata di albicocche, chiudiamo con un altro pavesino al cacao, passiamo nel succo di albicocca, infine immergiamolo nella ganascia al cioccolato. Grazie. Grazie.